Ti piacciono i fuochi d'artificio? Vi siete mai chiesti come sono state realizzate quelle scene meravigliose? La soluzione sono le lastriere pirotecniche. Ciao a tutti, sono bimbi di Master Fireworks. Oggi vediamo quando sono fatte le lastriere. Il primo processo è tagliare i tubi in base alle dimensioni. E poi fare un foro sul lato. Stessa la volazione ma sull'altro lato. Questi piccoli pesi sono per bloccare i fuochi d'artificio in modo che non cadono. Una volta gli angoli venivano stampati sulle lastriere con vernice e ora hanno cambiato i remettiere. Ora sono incisi, rendono più stabili. Tutte le parti sono pronte, possiamo montarle. E poi saltarvi. L'ultimo passaggio era l'uccitatura. Pronti, ora possiamo impararli e spedirli ai nostri clienti. Non dimenticare di mettere mi piace. Ci vediamo, ciao ciao.